Oggi vi faccio vedere degli occhiali molto particolari. Sono i TCL Next Wear S e a dispetto del fatto che possiate pensare che sono degli smart glass e che la loro app si chiama smart glass, in realtà non sono proprio degli smart glass. Dovete pensarli infatti come una sorta di cinema di fronte ai vostri occhi, uno schermo da 140 pollici. Funzionano obbligatoriamente tramite cavo e non sono quindi alimentati da alcuna batteria, cavo che poi dovete andare a collegare al vostro telefono su cui c'è appunto l'app in questione. Sulle stanghette ci sono i controlli per la luminosità, questa qua sulla destra, e per il volume, questo slider sulla sinistra, volume che esce da degli speakerini inclusi appunto qua sul retro e che quindi tutti potranno sentire. Il prezzo dovrebbe essere circa 500 euro, quello diciamo di un discreto televisore, ma non è quello il punto, il punto è la tecnologia. Tecnologia forse un po' immatura, ma chissà, magari tra 5 o 10 anni sarà così. che ci rilasseremo, o forse no.